Salve questo è il programma che io uso per costruire qualche applicazione sul cellulare Ok app, nome dell'app, prova, scelgo dalla galleria e gli do un'immagine a me questa metto in italiana, scrivo qualcosa, uso, provo, next, prendiamo un blog, non possiamo prendere una qualsiasi Salve, e poi adesso cosa vogliamo fare, diciamo che prendiamo, ehm, review or tutorials Vuoi avere, signale sito web, metto no, a chi non ce l'ho Qua dovrei combinare qualcosa Back, next, titolo, prova, aggiungo, voglio aggiungere un file, prova Next, immagine è importante, go to app manager Ho già creato un'app Se faccio download app, prova, prova E' ancora pronto, da qualche modo sarà Questo è un codice a barre che si è scandalizzato col cellulare Vi dà direttamente il link per scaricare l'applicazione sul cellulare Perché ovviamente non è presente in questo modo su Facebook Andrè poi si può anche pubblicare su Facebook Ma in questo caso non è pubblicato Do un like A questo lo so Ok Chiudi Eccolo 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 Ok Questo è tutto per farvi vedere Come funziona Android Reader Eccolo Eccolo Grazie a tutti.